La Guardia di Finanza festeggia oggi il suo 249esimo compleanno con una serie di celebrazioni che si sono tenute a Roma. Le prime commemorazioni sono iniziate alle 9, quando il Comandante Generale, il Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, il Comandante in Seconda e il Presidente dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, hanno deposto una corona di alloro al Monumento al Finanziere di largo 21 aprile. Alle 9 e mezza le autorità di vertice del Corpo, il Comandante di Seconda, il Capo di Stato Maggiore e il Sottocapo di Stato Maggiore hanno poi reso omaggio al Sacrario della Guardia di Finanza, dedicato alla memoria dei caduti del Corpo presso la Caserma Santa Elaria in Piazza Armellini. Durante l'Italia Giornata gli allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti assicureranno il servizio di Guardia d'Onore presso il Palazzo del Quirinale. A partire dalle 6 e mezza pomeridiane avranno luogo i festeggiamenti con la tradizionale cerimonia militare organizzata a Roma, presso la Caserma che ospita il Comando Generale del Corpo. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il Parco Commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.